Ad un anno dal terremoto del 9 novembre scorso, riapre alle funzioni religiose la chiesa monumentale di San Decenzio, chiesa interna al cimitero centrale e considerata la più antica di Pesaro. Fu tra gli edifici religiosi feriti dal sisma e da allora reso inagibile, ma dopo opere di risanamento tornerà a disposizione dei fedeli in una data non casuale, quella della festività di ogni Santi. Sarà il Vescovo Sandro Salvucci ad ufficiare la celebrazione eucaristica prevista alle 15.30 del mercoledì 1 novembre dedicato a tutti i Santi, al quale lo stesso Arcivescovo farà seguire la funzione dedicata alla memoria dei defunti del 2 di novembre. Si tratta del secondo repristino religioso post-sisma dopo la stato della Madonna dei Cappuccini restituita alla comunità a fine agosto. Resta ancora in attesa invece la complessa messa in sicurezza della pieve di Candelara che fu fortemente danneggiata dalle scosse di terremoto. Per quel che riguarda San Decenzio la chiesa è di proprietà del comune e da oltre un secolo è custodita dai frati Cappuccini. Un luogo di culto ritrovato che apre le porte anche ad un tesoro archeologico troppo spesso dimenticato, come quello della cripta sottostante la chiesa stessa sulla quale c'è una mozione comunale a sostegno della valorizzazione a firma dei consiglieri Anna Maria Mattioli e Giampiero Bellucci. La cripta è la prima basilica cristiana di Pesaro. È veramente un peccato tenerla nascosta ai tanti studiosi, ai tanti giovani studenti che potrebbero avere uno studio appropriato proprio su questo sito archeologico che è importantissimo e che in pochi conoscono. Quindi noi abbiamo presentato in consiglio comunale insieme al consigliere Bellucci una mozione per riqualificare la chiesa, aprirla in orari prestabiliti e aprirla anche alle scuole. Al FAI abbiamo chiesto anche con un bando di studiare un percorso per la riqualificazione delle tombe monumentali storiche. È un percorso artistico, è un percorso turistico anche in vista della capitale 2024. Penso che sia un valore aggiunto ancora più forte per riqualificare il nostro sito cimiteriale che è pieno e ricco di tanta tanta storia.